buonasera a tutte ben ritrovate e spero state tutte bene e prima di cominciare il nuovo argomento volevo rispondere brevemente a due domande che mi erano state fatte l'altra volta dopo che avevamo chiuso la registrazione che mi sembrano due domande importanti la prima era una domanda veramente quelle che si dicono da centomila dollari perché mi è stato chiesto come facciamo a educare i nostri figli e nostre figlie in particolare perché mantengano gli standard della SNUT e sull'educazione ovviamente ci sono tanti insegnamenti purtroppo a volte è una delle cose più difficili da fare il genitore sappiamo che il mestiere del genitore è molto complicato ma al grado gli sforzi le cose che avevo detto l'altra volta erano essenzialmente due la prima dare l'esempio perché a volte si vedono genitori che vengono a lamentarsi dei figli per certi difetti che poi noi riscontriamo nei genitori stessi per fare un esempio banale il genitore fuma non vuole che il figlio che fumi il genitore non ha un linguaggio appropriato e pretende che il ragazzino non dica parolacce e quindi la prima cosa ovviamente è dare l'esempio questo è importantissimo e sicuramente lascerà una traccia quello che c'è da dire che sentivo in una lezione non mi ricordo più quale proprio a proposito dei nostri patriarchi che una volta anche data una certa impostazione non è detto che il figlio la segua perché ogni figlio ha il suo carattere soprattutto e ci sentivo in questa lezione che diceva per esempio Abraham aveva due figli Ishmael e Yitzhak guardate che differenza tra Ishmael che i Midrashim dicono che si macchiava di tutti i peccati più gravi e Yitzhak che invece era il din il rigore non avrebbe mai trasgredito neppure all'ordine di Akadosh Baruch Hu di farsi sacrificare da suo padre però si potrebbe obiettare Ishmael era figlio di Agar Yitzhak era figlio di Sara quindi le cose possono essere anche incomprensibili che non abbiano avuto lo stesso tipo di atteggiamento ma allora passiamo a Yitzhak che ha avuto due figli dalla stessa moglie Yitzhak e non solo ma due gemelli Esav e Yaakov e allora due gemelli stessa madre stesso padre stesso ambiente familiare stessa educazione e abbiamo visto che da una parte è venuto fuori Esav il nostro peggiore nemico e dall'altra Yaakov che invece è stato il padre delle dodici tribù di Israele e a questo punto qui si capisce che non basta più dare una stessa educazione ma che il carattere del figlio non dà la sua percentuale anche alta e allora qui bisogna imparare e questo penso che lo impariamo proprio da Yaakov che non si deve avere lo stesso atteggiamento nei confronti dei figli quando vediamo che hanno invece tendenze caratteri diversi perché lo impariamo da Yaakov perché nella parashah di Vaichy l'ultima parashah del libro di Bereshit noi vediamo che Yaakov dà una benedizione a ciascuno dei dodici suoi figli e vediamo che è una benedizione completamente diversa l'uno con l'altro con tutto che in tutti insieme formeranno il popolo di Israele però ognuno di loro il suo carattere a uno di essi Yaakov dice tu ti dedicherai al al commercio un altro invece dice tu sarai più portato per lo studio a uno aiuta dal promessa che da lui discenderà il regno il regno il re dell'Israele quindi vediamo che lo stesso genitore deve tenere conto dei caratteri diversi quindi magari con un figlio bisogna essere più gentili non sgridare non picchiare un altro figlio invece ha bisogno della linea più dura poi vi rinfaceranno che vi comportate in modo diverso l'uno con l'altro però ognuno deve avere un po' quello che richiede detto questo l'ultima cosa che avevo detto io e l'ha detto anche questo rabbino di cui ho sentito la lezione non mi ricordo chi fosse bisogna pregare tanto quando accendete le nero al shabbat ricordatevi di pregare perché i figli prendono tutti la giusta strada della Torah e l'altra domanda che mi era stata fatta era su i piedi se i piedi devono essere coperti o se possono restare nudi perché avevamo visto che abbiamo studiato di quella che deve essere la lunghezza minima per essere sanua di una gonna che i maestri dicono shock beisha erva che la gamba della donna costituisce nudità ma che maggior parte dei commentatori intendono per shock la parte dal ginocchio in su e quindi quella deve essere la parte che deve essere coperta e avevamo visto che c'era un unico invece commentatore che riteneva che invece si deve intendere per shock la parte dal eh dal ginocchio in giù e a questo punto eh perché dice è ovvio che la parte sopra è coperta quindi se i maestri dicono che costituisce nudità sta parlando della parte inferiore dal ginocchio in giù però poi lui stesso si ricrede eh mi sembra che avevamo detto appunto il e dice in effetti se noi guardiamo tutti i commentatori compresa la mischina che è un commento abbastanza abbastanza severo tutti con un un inanimemente ritengono che per parte che deve essere coperta dal ginocchio in su quindi alla fine anche eh decide che eh si intende così e eh aggiunge a dimostrazione del di questo fatto dice che se no eh se si tendesse dal ginocchio in giù dovremmo coprire anche il piede e dice invece ci sono molti luoghi in cui eh le donne abitualmente vanno in giro con il piede nudo e questo non è considerato eh qualcosa di non sanua quindi lui ci fa vedere che esistono delle che non c'è una che obblighi a tenere il piede eh coperto però bisogna dire che poi come vi dicevo bisogna eh sempre tener conto dell'ambiente in cui ci si trova molte eh molti ambienti religiosi invece eh le donne eh si coprono il piede anche d'estate usano oltre alle scarpe anche le calze soprattutto se hanno dei sandali aperti eh voi l'avete notato e eh come vi avevo anche detto eh se c'è non bisogna mai scendere oltre lo standard minimo ma non bisogna eh però eh non bisogna non tenere conto se si va in un ambiente dove è richiesto uno standard maggiore bisogna adeguarsi a quello quindi se noi siamo in un luogo dove normalmente tutte le donne vanno a piedi nudi o insomma senza calze anche d'estate possiamo eh farlo perché non c'è una la che ci obblighi a tenere eh i piedi non nudi ma se noi frequentiamo degli ambienti dove invece eh sappiamo che è richiesta la copertura del piede dobbiamo adeguarci e queste erano le due risposte alle domande che mi erano state fatte e oggi volevo cominciare a trattare l'argomento della mizwa di lo il bash cioè l'argomento della mizwa che eh proibisce di ehm eh usare indumenti maschili sulla donna e viceversa la cui fonte è nel parashà di Kitezzè il nel libro di Devarim il capitolo due il verso cinque in cui è scritto eh traduco eh non vi sia strumento maschio su una donna e non indossi un uomo un vestito di donna poiché è un abominio un abominio per il Signore tuo Dio chiunque faccia queste cose e vedete già queste che eh questa mizwa è una mizwa una delle eh trecentosessantacinque mizwa negative cioè di non fare e in realtà sono due perché abbiamo una mizwa la prima parte che si rivolge alla donna e poi la seconda parte che invece si rivolge all'uomo e osserviamo subito che c'è una non c'è un parallelismo tra le due espressioni perché per quanto riguarda la donna è scritto che lì che lì vuol dire strumento attrezzo e i maestri si ehm dicono che qui si fa riferimento alle armi all'armatura invece per quanto riguarda l'uomo è proprio scritto Simlat Isha e quindi si tratta di un vero e proprio vestito come la parola Simlat lo dice e ehm la l'ultima parte che è comune a tutte e due le prime le espressioni cioè comune a tutte e due le mizzozi comune a tutte e due eh uomo e donna e che si riferisce entrambe i due pezzetti del primo del verso eh comune dice perché questo sarebbe un abominio cioè una cosa un atteggiamento non morale non adeguato non permesso eh anzi eh rifiutato abborrito da Kadosh Baruch Hu per Kelly Gaver vi dicevo eh si eh intende essenzialmente armatura e per Simlat vestito però i maestri dicono che poi in realtà questa espressioni eh vanno estese non solo a quello che è proprio l'abbigliamento l'aggetto dell'abbigliamento il vestito la copertura ma si eh questa mh proibizione deve stendersi anche a ehm usi che di atteggiamenti o usi delle dell'uomo della donna che sono tipici eh del di quel sesso per esempio eh poi spiegherò come oggi è molto difficile parlare di queste cose ma un tempo non sarebbe mai stato pensabile che un uomo andasse con i capelli lunghi e una donna con i capelli corti quindi questo per farvi capire eh che ehm la mitzvah si riferisce non soltanto al capo d'abbigliamento ma anche all'atteggiamento per farvi un altro esempio ehm la un uso che era proibito nei tempi del Talmud nel Talmud lo riporta più volte era che l'uomo si depilasse le ascelle perché era considerato un uso tipicamente femminile però se voi guardate invece eh nelle decisioni dei Gaonim di Babilonia le Yeshivot di Suray eh Combedita che sono diventate centri grandi centri di studio famosissime nel periodo dal 750 al 1254 eh nei grandi centri di studio in Babilonia invece eh i loro decisori dicevano che l'uomo può eh depilarsi le ascelle perché è un uso assolutamente comune tra tutti gli uomini e che quindi non ha un carattere definitivamente femminile non è tipico solo della donna evidentemente in quelle società si usava così e quindi questo ci fa e ci introduce a quelli che sono i due aspetti fondamentali di questa mitzvah che la eh definiscono e che in mancanza di questi due aspetti non possiamo dire di aver trasgredito questa mitzvah e il primo aspetto è eh dato dalle convenzioni sociali vi faccio un altro esempio eh in Scozia un uomo con il kilt eh non sta eh probabilmente indossando un indumento femminile perché eh in certe situazioni in certe cerimonie è il tipico vestito del soldato dell'uomo scozzese ho visto una foto mi è capitata scorrendo un po' di articoli su questo sul problema poi eh sì questo mi sa dell'oil bash una foto in cui si vedeva di schiena tutto un gruppo di uomini in kilt con la chippa presa di schiena perché si vedeva che avevano la chippa in testa e quindi ci fa capire che anche quello che è il sentire comune della società ha il suo peso apro parentesi oggi eh allora a questo punto mi direte non c'è più nulla che sia maschile femminile cioè non possiamo più dire niente che sia maschile o femminile se noi guardiamo la società d'oggi però lì dobbiamo porre un limite e il limite secondo me è eh la mizwa generale che avevamo già citato eh lotte lehu eh behu kotagoi di non seguire il eh gli usi del dei guim oggi siamo arrivati secondo me è una situazione in cui molte cose sono veramente eh degli usi che che hanno i guim e che non dobbiamo assolutamente imitare cioè non bisogna arrivare a degli estremi a cui oggi siamo purtroppo arrivati è molto difficile trovare un eh saper dire sì questo è ormai accettato comunemente questo va oltre quello che è possibile accettare lì secondo me se una donna una ragazza vuole seguire e osservare la la grande mizwa della Zniut la cosa migliore che può fare è eh nei casi dubbi di rivolgersi a un rabbino un post-tech che sia esperto in questa materia e l'altro aspetto fondamentale di questa mizwa è appunto il fatto del essere eh avere questo intento immorale se una persona si ehm si veste con una indossa o o ad però un attrezzo un indumento che sia dell'altro processo non non basta bisogna che ci sia anche l'intento immorale cioè eh la volontà di far qualcosa che non è eh moralmente ehm accettato moralmente eh eh riconosciuto e per farvi un esempio anzi posso farvi due esempi uno eh se noi torniamo al l'espressione che lì gever strumento da uomo e vi dicevo che nella maggior parte dei cale si intende un'arma che un'arma l'armatura che una donna indossi che eh fino a poco tempo fa eh e ancora oggi comunque il combattente è sempre uomo e sono oggi tante donne che fanno il militare e qui anche ci sono che noi vedremo che se noi vedremo che permettono alla donna di portare con sé un'arma perché oggigiorno è legittima difesa i possechim moderni assolutamente dicono che non si trasgredisce la mizwa di l'olibash se una donna eh nel sue nell'adempiere funzioni di sicurezza porta con sé un fucile come vediamo molto spesso in Israele ehm però una donna con l'armatura e eh tutto l'apparato da da battaglia e qui appunto si pensa a come si vestivano una volta i soldati completamente eh ricoperti da queste armature di metallo e con le lo scudo la lancia eh sicuramente eh costituiva quello che si chiama che la Torah definisce Kelly Gehver Alisha e infatti eh c'è un un brano nel libro di Shofettim dei giudici il capitolo quattro in cui si parla della profetessa Devorah e questo brano si legge fra l'altro come come Aftarah eh della Parashah di Beshalach perché si conclude con la cantica di Devorah che fa Pandan con la Shiratayam e quindi i maestri hanno messo questa Aftarah proprio come eh collegata con la Parashah di Beshalach in questa ehm capitolo quattro del libro di Shofettim dei giudici si racconta appunto di Devorah che era una giudice donna e che ehm Shofettah et Erez Israel che in quei tempi giudicava eh in Rez Israel sappiamo che nel libro di giudici appaiono tante figure di giudici tutti maschili questa è l'unica volta che vediamo una donna in un ruolo così importante sappiamo che il periodo dei giudici era un periodo eh molto immorale molto dove il popolo di Israele continuava a peccare e quindi il Signore li puniva mandando dei popoli che li opprimevano e poi eh pregavano si pentivano e li salvava e qui siamo di nuovo in questa occasione in cui il popolo si è comportato male e il Signore dice eh il testo li consegna nelle mani di Yavin re di Canaan che li opprime ehm e li li opprime violentemente e dopo venti anni è scritto che il popolo si rivolge a Devorah e fra l'altro anche qui un aspetto molto interessante proprio collegato alla Zniut è scritto che eh Devorah ehm 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 che Devorah siede sotto la eh palma di Devorah cioè dove giudicava questa donna sotto una palma quindi in un posto esterno fuori non riceveva le persone in casa e questo eh molto importante anche quando parleremo eh se vorrete del delle regole dell'Ihud cioè del divieto eh per un uomo una donna che non siano sposati di appartarsi eh in una casa senza eh con la porta chiusa senza che nessuno possa entrare perché eh vi è il sospetto e anche il rischio che compiano degli atti eh non permessi e infatti Devorah appunto sedeva fuori dove tutti potevano vederla anche se venivano degli uomini a consultarla e eh Devorah per farla breve con la storia ehm carica ehm il generale Barak di combattere contro questo popolo che li opprimeva il cui generale si chiamava Sisera eh il popolo eh questa volta appoggiato da Shem vince e sconfigge eh il re eh Yavin e Sisera scappa e si rifugia nella tenda di una donna chiamata Yael ed è scritto che Yael lo fa entrare nella sua tenda e anche qui in questa volta ci sarebbe da discutere eh ma è proprio questo il punto eh e dopo eh riesce a farlo addormentare perché questo generale scappato dal fuga ha corso tanto è stanchissimo lei oltretutto ha richiesto di acqua e gli dà del latte quindi lo fa addormentare e poi cosa fa? Prende un chiodo della tenda e con un martello glielo pianta nella tempia e così lo uccide mentre dorme neanche si accorge e ehm i maestri si chiedono come mai usa questo strano sistema di uccidere eh anche molto faticoso probabilmente poteva prendere una spada una lancia e essi dicono che questo eh che Yael si è comportato in questo modo proprio per far vedere la sua attaccamento al alle regole della della Torah perché ha voluto eh non prendere in mano o una spada una lancia che erano un Kelly Gever anche se non era vietato perché in realtà non è che li indossava li avrebbe usati solo per uccidere questo generale ma lei voleva siccome ha fatto entrare si serà nella sua tenda e questo poteva dare adito a eh delle voci ha detto guardate io non uso il Kelly Gever spado lancia uso uno strano modo per uccidere un un chiodo con un martello che sicuramente non possiamo considerare che è il Gever per farvi vedere che io sono così scrupolosa e quindi non dovete avere sospetti su quello che io eh ho fatto l'ho fatto entrare solo per ucciderlo e non per altri scopi dicevo che appunto è molto importante ehm capire anche qual è l'intento eh l'intento nel indossare un Kelly Gever o un Simlatisha cioè un indumento o uno strumento che siano tipici dell'altro sesto ci deve essere questa volontà di fare qualcosa di eh non permesso e le fonti che sono quelle essenzialmente del Maimonide e del Seferachinuch poi ce ne sono tante altre però la base per di commento di questa di questa Mitzvah eh e che ci dà la spiegazione del divieto è che vi era un uso ehm di eh vicini uomini di travestirsi da donna e viceversa proprio per passare come membro del del sesso opposto e potersi intrufolare negli ambienti uomo negli ambienti femminili e la donna negli ambienti maschili per scopi morali l'uomo travestito da donna riusciva andare in quei gli ambienti dove c'erano solo donne oggi non si è difficile capire questa cosa ma voi dovete pensare che per molti secoli molte epoche e molte società eh le donne vivevano con le donne gli uomini vivevano con gli uomini e difficilmente un uomo poteva eh andare a in una casa dove stavano le donne anche nelle stesse nella stessa Torah voi vedete che le donne avevano le loro tende gli uomini nella loro tenda poi ovviamente marito e moglie si incontravano ma erano ambienti separati e quindi eh questa eh secondo il Rambam e secondo anche il Maimonideg secondo anche il Seferachinuch che è il libro che eh porta in ordine tutte le mitzot dando cercando di dare una spiegazione insegna qual è l'insegnamento di questa mitzah ci dicono che proprio il motivo eh di questa eh proibizione è di evitare l'infiltrarsi di un uomo negli ambienti femminili e viceversa infatti se pensate anche alla storia di eh Amnon e Tamar Amnon il figlio del re David che si era innamorato eh della sua sorellata Tamar e che non sapeva come avvicinarla perché a questo punto ci fa capire che non poteva andarla a trovare a casa sua e dire ciao come stai eh cosa fa si finge malato e prega suo padre re David di mandare Tamar a dargli eh preparargli una minestra a dargli da mangiare perché questo sarebbe stato l'unico modo che l'avrebbe fatto sentire meglio e il re David consente purtroppo e lui eh violenta la sorellastra e poi una volta soddisfatti i suoi desideri la ripudia la odia e non la vuole più vedere ma questo l'ho raccontato per farvi vedere che eh un travestimento di un uomo da donna a donna può permettere di entrare in questi ambienti e viceversa e fare eh poi agire in scopo immorale e secondo la maggior parte dei commentatori appunto è questo il motivo della della proibizione quando non ci sia questo motivo questo intento immorale allora eh non è detto che eh indossare un ehm indumento che non sia esattamente tipico di un sesso sia vietato e vi faccio eh degli esempi se ehm un esempio antico mi è venuto in mente di un maestro della Mishnah che purtroppo non so non ho fatto il tempo a ritrovare il nome ma se lo trovo poi ve lo dico eh ricordo di averlo studiato perché era uno dei maestri citati nei Pirkeavot eh si dice che era così povero che aveva un solo mantello e che quando usciva lui andava a studiare lo usava lui e quando invece tornava a casa lo dava alla moglie perché potesse uscire lei e andare a fare le sue commissioni e questo mantello era lo stesso mantello quindi eh ci fa capire che l'intento di usare questo mantello era solo per ripalarsi dal freddo e non il travestirsi da uomo o da donna perché era un indumento probabilmente assolutamente quel oggi diremo unisex e oppure i maestri dicono se un viene un temporale improvviso e un uomo cavalerescamente prende il suo impermeabile e lo offre a una donna perché si ripari dalla pioggia eh non si può considerare eh di trasgredire il divieto di loyal bash perché lo scopo è di ripararsi dalla pioggia e non certo quello di travestirsi eh da uomo. Ora può darsi che vi siano persone così eh mahmirim che non non accetterebbero questo però in linea di massima eh secondo eh la maggior parte dei posecchi non c'è eh trasgressione del divieto di loyal bash quando si usi un indumento solamente per eh per necessità e non per volontà di di sembrare l'altro sesso e un'altra importante interessante eh questione è quella del travestimenti per recitare a volte nelle commedie nei nei al teatro vediamo che ci sono eh uomini che si vestono da donna o viceversa ma solo per esigenze di scena non perché vogliano veramente poi farsi passare per un altro sesso e ehm i qui decisori sono molto eh sono discordi cioè alcuni dicono non c'è niente di male è solo una necessità scenica altri invece sono comunque contrari e è molto interessante anche il problema delle maschere di Purim ci sono eh molte per secoli si è usato eh a Purim che eh fossero dei vestimenti di donna eh per un uomo e viceversa eh eh e viceversa e qui c'è eh un interessantissima anche qui i posecchi sono eh abbastanza contraria questo uso però c'è una teshuva molto molto famosa che è quella del rabbi ehm Yehuda benediese Ralevi eh nato a Magonza all'inizio del quattrocento e poi nel mille quattrocentosessantadue si è ehm trasferito dopo a causa della cacciata degli ebrei della Germania e si è trasferito a Padova dove ha aperto un' importantissima yeshiva famosa eh in tutta Europa e in tutta Italia in tutta Europa e e dove eh arrivavano proprio le scelotte le domande da parte di tutti i rabbini proprio per la sua grande famosa famosa e una di queste fra l'altro purtroppo tutti i suoi responsa sono andati distrutti eh nel sacco di Padova cioè un saccheggio che è stato fatto opera dei soldati eh austriaci nei confronti dei beni degli ebrei nel avvenuto nel mille cinquecento otto no un po' prima nel mille dopo la sua morte nel che è stata nel mille cinquecento otto c'è stato questo saccheggio tutte le le sue teshuva sono andate perdute tranne sedici teshuva che poi sono state ritrovate da un nipote che le ha pubblicate e una di queste teshuva è proprio eh proprio ad oggetto il la domanda risponde alla domanda che gli viene fatta se a Purim è permesso travestirsi da nel nell'altro sesto con un avviamento che che è tipico dell'altro sesto e quindi sembrare un uomo una donna e eh lui risponde positivamente cioè è per secondo lui è permesso perché non c'è appunto l'intenzione morale ma c'è solo lo scopo di divertirsi e quindi se mh la precisa intenzione solo eh di divertirsi ma non di nascondersi tra persone del sesto opposto allo scopo di commettere adulterio comunque a dire comportamenti licenziosi secondo lui è permesso eh solo per aumentare l'allegria per divertirsi e eh scrive anche eh per farvi capire eh il cosa che si insiste tene per intenzione che eh per esempio c'era anche l'uso ai suoi tempi che eh i bambini andassero in giro rubando eh il cibo probabilmente dei dolcetti alle alle altre persone e anche lì dice non possiamo sanzionarli dicendo che abbiano commesso furto perché è una cosa che il giorno di Purim si è risaputa si sa è un divertimento e quindi non c'è nessuna intenzione di rubare ma solo di divertirsi ora però ehm eh cioè il suo risponso è stato accettato persino da dal Rema il Rabbi Moshe Isserles che ha fatto le aggiunte lo Shulchan Aruch che comunque era molto rigoroso eh non tutti i decisori sono d'accordo e come sapete ci sono sempre opinioni invece più rigorose che ritengono che neanche a Purim anche se non c'è un'intenzione immorale si possa ricorrere a questi travestimenti questo oggi penso che eh mi fermo a questa introduzione perché poi eh la prossima volta vorrei trattare del del problema del dei pantaloni che è un argomento molto discusso e anche accennare a eh c'è una domanda che si fa sempre se è permesso alle donne eh indossare eh talede tefilin e qui il problema non è solo eh dell'oil bashe cioè non è per chi ritiene che sia vietato non è un problema che è legato al fatto di indossare degli indumenti maschili ma c'è anche il fatto che si tratta di una mizuà eh positiva legata a un tempo e anche a una forma di mancanza di snut perché la donna che vuole mettersi talede tefilin probabilmente lo fa per anche per orgoglio però mi dico qui ci sono tante decisioni magari ci soffermiamo alla prossima volta su questi due argomenti eh e li approfondiamo con tutte le le fonti se avete delle domande poi io rimango collegata io l'ho assegnata amministratrice anche se sono rimasta alla fine quindi se vuole interrompere adesso lo deve fare lei eh vediamo chiedere